Il Consiglio Comunale di Barletta ha approvato il bilancio consuntivo, un'approvazione scontata al termine di una seduta, trascorsa tra polemiche senza fine all'interno della maggioranza e tra maggioranza opposizione sindaco, giunta e dirigenti. Insomma, il solito copione visto e rivisto in quasi tutti i consigli comunali sin dall'inizio della consigliatura. Prima di approvare il bilancio, il capogruppo del Partito Democratico Pasquale Ventura ha chiesto e ottenuto che ogni assessore relazionasse sull'attività svolta in quest'anno di attività amministrativa, dopodiché ha duramente replicato ad ognuno di essi, evidenziando ciò che secondo lui non avevano realizzato. Insomma, restano insoluti due problemi che creano instabilità sin dal primo Consiglio Comunale, una giunta che non piace ai partiti, soprattutto al PD, e una difficile correlazione tra consiglieri ed esecutivo. Tutto il resto è noia. Pertanto, che siano critiche e obiezioni giuste o strumentali, ogni occasione è buona per creare conflitti. Va detto che se poi a richieste di interventi fatte direttamente o attraverso interrogazioni da parte dei consiglieri, l'esecutivo e gli stessi dirigenti continueranno a non rispondere, oppure a rispondere in forte ritardo con dei stiamo provvedendo, a cui non fanno seguito i fatti, l'irritazione e il senso di inutilità di molti consiglieri, continuerà a crescere, il che non contribuirà certamente a rasserenare un ambiente carico di tensione. Comunque, alla fine, come dicevamo, la maggioranza a rete, il bilancio è stato approvato con 21 voti favorevoli. Domani il Consiglio torna a riunirsi. All'ordine del giorno, quattro debiti fuori bilancio e la transazione con il barretta calcio. I provvedimenti erano già stati portati in Consiglio, salvo essere ritirati dallo stesso sindaco Cascella per la mancanza del parere della Commissione. La sensazione è che sia pur tra immancabili polemiche, domani sia i quattro debiti che la transazione saranno approvati. Quest'ultima è quella che sta provocando le maggiori perplessità. Sono molti i consiglieri che non ci vedono chiaro in un provvedimento che finirà certamente sotto la lente di ingrandimento della Corte dei Conti. Il Consiglio che decida ciò che ritiene assumendosi le proprie responsabilità danno fastidio però gli interventi su molti consiglieri con messaggi e telefonate nonché l'ex presidente Roberto Tatò che dopo essersi presentato con l'eleganza che lo contraddistingue al precedente Consiglio afferma un giorno sì e l'altro pure che se non verrà approvata la transazione farà saltare l'accordo con Perpignano. Con questi chiari di luna il presidente del Consiglio e lo stesso sindaco hanno il dovere di provvedere a che la seduta di domani non sia condizionata dalla presenza di agitati gruppi di pressione, che si possa discutere e votare con serenità, insomma che la transazione non si trasformi in un'estorsione.